La Campania è oggi una Campania a contagio zero. Il governatore mette il punto sulla situazione sanitaria attuale in Campania, nonostante gli ultimi dati dell'unità di crisi regionale, riportino oggi 10 nuovi positivi al Covid-19. De Luca, nella sua consueta diretta Facebook, non le manda a dire, pur senza nominarlo mai, punzecchia. Poi Matteo Salvini, contestato quattro giorni fa nel comune casertano di Mondragone, e focolaio di Covid-19, dove il leader del carroccio si è recato anche oggi, ribadendo come l'emergenza sia stata superata con tempestività. Saluto e ringrazio la civilissima città di Mondragone. Il focolaio in Mondragone è stato isolato, dobbiamo continuare a tenere gli occhi aperti. Il governatore ricorda infine la disparità di trattamento da parte dell'opinione pubblica nei riguardi della situazione di una cittadina del Piemonte a Saluzzo, analoga alla zona rossa di Mondragone. La descrizione che è arrivata di quella realtà era simile alla descrizione di un picnic. La campania appartiene alla categoria degli afflitti, non dei fortunati. E sul ritorno a scuola massima attenzione per evitare contagi. La prima cosa è dare le mascherine a tutti gli studenti, almeno delle medie e medie superiori, e fare i tamponi all'inizio dell'anno scolastico, o a tutto il personale docente. Importante far ripartire poi anche l'economia per quanto riguarda gli appalti. Il modello proposto dal governatore De Luca è quello delle universiadi. In dieci mesi abbiamo realizzato il completamento, ho fatto ex novo, 70 impianti sportivi. Dieci mesi.